Musica Innanzitutto le scuole in relazione fra di loro e questo non è sempre facilissimo. Le scuole in relazione con il territorio, e anche questo è estremamente importante, e diffonde un concetto di cultura, di bellezza, che dimostra fruibile da chiunque e non rinchiuso. Davvero sottolineare come il progetto Museo in Transito valga ora per i ragazzi che si apprestano al colloquio di maturità. Durante il colloquio di maturità, ormai l'artellanza scuola lavoro, che adesso si chiama PCTO, riguarda proprio questi percorsi e diciamo che forse uno dei più compiuti è proprio questo. Nel senso che li fa interagire non solo tra varie scuole, che è già positivo, ma anche attraverso varie discipline. La progettazione che intrinseca al liceo artistico, perché al liceo artistico si progetta, e entrare però anche all'interno del tessuto urbano, attraverso il CTM per esempio, attraverso le opere che hanno realizzato, gli arredi che hanno realizzato. Grazie!